Fratelli nel Signore, oggi volevo parlarvi di un argomento molto importante, molto importante che riguarda appunto i bambini, la grazia di Dio, la grazia del Signore per quanto riguarda i bambini, cioè i bambini obbligatoriamente sono tutti salvati oppure i bambini vanno tutti in perdizione o quale questione ci sia a tal proposito. Partiamo da Genesi capitolo 2 versetto 17. Il Dio ha dato un ordine al primo uomo e al primo uomo ha dato quest'ordine, Genesi 2 e 17, ma del frutto, cioè 2,16, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. E così avvenne che Eva fu sedotta dal serpente, mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male di cui Dio aveva ordinato di non mangiare e ne diede da mangiare anche ad Adamo. E in quel giorno avvenne quindi avvenne che peccarono, perché Adamo ed Eva prima di quel peccato erano puri, erano senza peccato. Allora sbagliarono, peccarono e avvenne quello che Dio disse, che quel giorno, nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai e infatti morirono. Morirono però morirono spiritualmente. La morte a cui si riferiva il Signore era la morte spirituale e questa morte spirituale venne in loro. Infatti cominciarono ad avere vergogna, perché quando si pecca poi si ha vergogna, capite? Non so, vi sarà capitato. Quando si pecca si sente vergogna, si cerca di nascondere il peccato, si cerca di nascondere tutte quelle parti vergognose. Infatti si nascosero, si cominciarono a coprire perché videro anche che erano ignudi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che cominciò in loro ad esserci una concupiscenza carnale e si cominciarono a proteggere, a cercare di coprire. E in quel giorno morirono e furono puniti l'uomo, fu punita la donna, fu punito anche il serpente. Ma oltre a quello che riguarda loro in quel giorno quando peccarono, c'è da considerare anche qualcos'altro, perché la scrittura, adesso dobbiamo andare in Romani, andiamo in Romani al capitolo 5, in Romani al capitolo 5 leggiamo queste parole. Capitolo 5 dal versetto 12. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non vi è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio è il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo, Gesù Cristo. Hanno abbondato verso i molti. E riguardo al dono non avviene quel che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione. Perché se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Come dunque, con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini. Vedete dunque, quindi non solo il peccato di Adamo portò danno a se stesso e alla moglie e anche al serpente, ma portò una conseguenza anche per tutta l'umanità, come abbiamo letto. Quindi uno peccò e tutta l'umanità cadde nella condanna. Abbiamo letto al versetto 18 come dunque con un solo fallo, vedete, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini. Quindi a causa del peccato di Adamo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, cioè la condanna che è scesa su Adamo è scesa su tutti gli uomini. E noi oggi siamo potuti essere salvati solamente per la grazia, per la misericordia che Dio ci ha fatto perché ci ha salvati in Cristo Gesù. Perché non solo il Dio ha fatto sì che la condanna passasse da un uomo a tutta l'umanità, ma ha fatto anche in modo che per l'opera, le opere giuste che Gesù Cristo ha compiuto, per il sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto, ha fatto anche in maniera che la salvezza passasse anche su tutti gli altri, su quelli che avrebbero creduto in Gesù Cristo, su quelli che Dio ha stabilito di salvare, quelli che ha scritto nel libro della vita. E questo è importante perché partendo da questo concetto, cioè che tutti gli uomini hanno peccato, tutti sono condannati a causa del peccato di Adamo, tutti per forza di cose devono ricevere una salvezza, la grazia devono riceverla per forza di cose da Dio, perché è Dio che salva, cioè l'uomo non può assolutamente, è condannato. Siccome Adamo ha peccato, tutti sono condannati. Non c'è una distinzione chi ha peccato di più, chi ha peccato di meno, quello non ha peccato, quello è piccolo, quello è grande, qui non ci sono distinzioni. La scrittura non va lì a centellinare a distinguere la questione di età. Il bambino, un neonato, qual è la caratteristica del neonato? Il neonato non ha coscienza di peccato, cioè non sente il peccato in sé, il bambino, ma questo non non sentire non vuol dire che non lo abbia. Infatti vi voglio ricordare il fatto che anche noi abbiamo, anche come dice il salmista, vi ricordate che lo dice anche il salmista, che dice che perdonami dei peccati che mi sono occulti, cioè il salmista chiede perdono per tutti quei peccati, che non sa di avere commesso, quindi non ha coscienza di avere commesso, però li ha commessi, cioè il salmista ammette di averli commessi, ci sono, è così anche noi. Avremmo commesso qualche volta dei peccati, o tutti i giorni qualcosa lo facciamo, peccati che noi non abbiamo coscienza di aver commesso, però li abbiamo commessi. Ecco quindi quando noi ci rivolgiamo in preghiera a Dio, quando ci inginocchiamo davanti a Dio e preghiamo il Signore e diciamo Signore perdonaci per i nostri peccati, se li conosciamo glieli rivolgiamo direttamente, diciamo Signore perdonami per questo, questo e quest'altro. Ma se ci sono, e poi insieme a questi noi domandiamo perdono anche per quei peccati che ci sono occulti, capite? ci sono occulti, cioè che noi non abbiamo coscienza di aver commesso, però ci sono, però ci sono. Quindi vedete da certe cose, quindi il salmista sapeva che Dio addebitava anche questo peccato anche su quelli che peccavano anche senza coscienza, senza avere coscienza di aver commesso il peccato. E quindi bisognava chiedere perdono a Dio anche per quei peccati. Per quanto riguarda, ora abbiamo visto quindi che abbiamo visto che il peccato di Adamo ricade su tutta l'umanità, ma vediamo anche cosa dice, per quanto riguarda il concepimento, se andiamo a leggere il salmo 51, salmo 51, si leggono queste parole, il salmista, sta scritto 51,5. Ecco, io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Quindi, vedete, qui il salmista cosa sta dicendo? Che poi è Davide che parla. Sta dicendo che anche il bambino che è concepito nel seno materno, sono stato formato, sono stato formato nella iniquità, vedete? Quindi il peccato che lo tocca anche al bambino mentre viene formato nel seno materno. La madre mia mi ha concepito nel peccato. Nel momento del concepimento si commette del peccato che si trasmette al fanciullo, si trasmette al bambino, perché così il Dio ha stabilito. E questo lo si capisce bene, lo si capisce esaminando la nascita di Gesù. Cioè, così, raffrontando queste cose, con la nascita miracolosa e potente di Gesù, ci rendiamo conto del perché Gesù è dovuto nascere in quella maniera miracolosa. Non perché doveva fare un miracolo in più, non è semplicemente un miracolo compiuto da Dio nel seno materno di Maria. Non è semplicemente un miracolo, ma era una necessità, era una necessità assoluta perché Gesù doveva venire sulla terra senza essere contaminato da peccato alcuno, capite? E siccome con il concepimento tra marito e moglie di un fanciullo c'è del peccato, perché qui il salmista lo dice, ecco perché è dovuto intervenire con un miracolo lo Spirito Santo. È dovuto intervenire lo Spirito Santo affinché Gesù fosse senza peccato, fosse concepito senza peccato, nascesse senza peccato e vivesse senza peccato, per poter essere quel sacrificio perfetto al quale noi guardiamo per essere salvati, al quale noi abbiamo guardato, è meglio dire noi che siamo nati di nuovo, a quel sacrificio a cui noi abbiamo guardato per essere salvati. Quindi vedete quel punto del concepimento è importante, è molto importante, è così importante che Gesù lo ha dovuto saltare quel passaggio, capite? Nel senso che il Dio è dovuto intervenire in una maniera per far venire Gesù sulla terra senza peccato alcuno sulla sua carne non ha dovuto permettere perché altrimenti se non ci fosse peccato che si trasmetteva al fanciullo avrebbero potuto avere un rapporto normale tra Giuseppe e Maria e nasceva Gesù. Non sarebbe cambiato nulla, cioè che cosa cambiava? Gesù avrebbe vissuto sempre la sua vita normale senza peccare e saremo arrivati alle stesse conclusioni che leggiamo nelle scritture, ma non era possibile perché la scrittura nella contaminazione tra uomo e donna, tra marito e moglie meglio dire, c'è anche se è naturale perché Dio ha stabilito così, però la scrittura dice che c'è una contaminazione, c'è un peccato che si trasmette al bambino e quindi il bambino non possiamo dire che quel bambino è senza peccato perché anche il fatto che Gesù, vedete, è nato in quella maniera miracolosa era appunto per essere esente dal peccato. Stiamo percorrendo questi passaggi per capire se possiamo dire che i bambini possono essere salvati da loro stessi, va bene? Perché se un bambino lo decretiamo noi senza peccato, no? Allora è salvato così, perché se è senza peccato è salvato, senza l'intervento di Dio, capite? Se invece c'è il peccato ecco che è necessario l'intervento di Dio, ma guardate bene, la questione è appunto questa, non ci può essere un essere vivente, un uomo salvato, piccolo o grande che sia, senza l'intervento di Dio, per la sua misericordia, per la sua grazia, per il suo dono della salvezza, non perché uno se l'è meritato. Il merito oppure essere esenti da peccato non esiste nell'umanità, non ci può essere, non ci può essere in maniera assoluta. Persino il peccato era anche in Giovanni Battista, anche se era ripieno di Spirito Santo fin dal seno materno, era anche lui. Quindi non è che Giovanni Battista è stato salvato per meriti suoi, no, Giovanni Battista anche lui è stato, benché ripieno di Spirito Santo fin dal seno materno, anche lui è stato salvato per la grazia di Dio, come tutti gli altri, non c'è nessuno escluso, sia il Nuovo Testamento che il Vecchio Testamento, attenzione, perché nel Vecchio Testamento non è che sono stati salvati, sono stati salvati per opere, no, anche nel Vecchio Testamento sono stati salvati tutti per la misericordia di Dio, nella stessa maniera di noi oggi, solo che noi oggi la differenza che c'è sotto la grazia dalla venuta di Gesù qual è? È che l'esposizione della salvezza per mezzo della fede, nel sacrificio di Cristo è diversa, cioè è stata spiegata in maniera molto più chiara, mentre nella legge c'era la stessa salvezza per fede, ma era più nascosta, quindi quelli a cui Dio lo rivelava anche nel Vecchio Testamento, anche nel Vecchio Testamento a quelli a cui Dio lo rivelava gli era rivelato e venivano salvati. Quindi non c'è tutta questa differenza tra il Vecchio Testamento, per quanto riguarda la salvezza, non c'è differenza tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, la fede in Dio avevano nel Vecchio e la fede in Dio devono avere nel Nuovo. Però non possiamo dire quindi che ci sono più salvezze, non si può dire, c'è una salvezza unica che avviene solamente per la grazia di Dio, questo sto cercando di farvi comprendere che essendo il peccato, avendo il peccato contaminato tutta l'umanità per forza di cose, per essere salvati ci vuole l'intervento di Dio, quindi a questo punto io dico, vabbè ma allora i bambini sono salvati o non sono salvati? Non c'è una risposta definitiva che vale per tutti, c'è una risposta che dice Dio salva a quelli che vuole salvare, secondo quanto lui ha stabilito, secondo quanto lui ha stabilito già prima della fondazione del mondo, capite? Perché il libro della vita è stato scritto prima della fondazione del mondo, in quel libro ci sono scritti tutti i nomi, piccoli o grandi, bambini o adulti che siano, di qualsiasi età li vogliamo definire, il Dio ha stabilito lui già quelli che deve salvare, quindi io non posso dire che tutti i fanciulli andranno a finire all'inferno, non posso dire che tutti i fanciulli, tutti i bambini, tutti i neonati, chiamateli di qualsiasi grandezza di età vogliate, non posso dire che tutti sono salvati o tutti sono perduti, non si può dire, perché come abbiamo parlato prima, il peccato è caduto su tutta l'umanità, piccoli e grandi che siano, anche i fanciulli pagano la conseguenza dei padri. E adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere che questo non è avvenuto solamente, cioè questo ragionamento, noi non lo possiamo fare solamente ed esclusivamente con quei versetti che abbiamo citato finora, ma ne facciamo altri. Adesso andiamo a leggere il secondo comandamento, esodo 20, il secondo comandamento che è noto per quanto riguarda le statue, ma è meno noto per la seconda parte di quel comandamento, ma è sempre il secondo comandamento, quindi lo voglio citare, ve lo dovete ricordare questo comandamento non solo per la prima parte contro i cattolici, per le statue, ma bisogna ricordarlo anche per quanto riguarda altre cose. Capitolo 20, versetto 4. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro perché io, l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benegnità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi vedete, dopo le statue dice perché io, l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri, vedete, punisco, quindi l'iniquità dei padri sui figlioli. Ora, questo avviene e avviene, allora questo avveniva nel Vecchio Testamento, nella legge. Ma noi, la scrittura ci insegna che questo secondo comandamento è ancora valido per intero anche sotto la grazia. E lo possiamo vedere, dobbiamo andare nell'ultimo libro, nell'ultimo libro della Bibbia, in Apocalisse, leggiamo queste parole. Al capitolo 2 di Apocalisse, dal versetto 20. Dal versetto 20 leggiamo queste parole. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori, perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei, in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni ed i cuori. E darò a ciascun di voi secondo le opere vostre. Vedete cosa succedeva? C'era questa donna in questa comunità di Tiatiri che commetteva fornicazione adulterio con taluni. E Dio ha promesso, Gesù, qui è Gesù che parla, è Gesù che parla all'angelo della chiesa di Tiatiri. L'angelo era il ministro di quella chiesa, era il conduttore che conduceva quella comunità. Anche se qui viene chiamato angelo, però era sempre... perché in un altro punto qui delle lettere c'è scritto io conosco il tuo ministerio, quindi sta parlando di un ministro. Ministro che aveva una certa responsabilità in quella comunità. Di conseguenza dobbiamo intenderlo in questa maniera. Non era un angelo di quelli che hanno... cioè un angelo in se stesso, ma angelo va inteso come parola, come messaggero di Dio in quella comunità. Comunque, Gesù parla e gli dice a questo appunto che stava sbagliando a tollerare quel peccato di quella donna con gli altri che commettevano adulterio con lei. E Gesù ha promesso di punire lei e quelli che facevano fornicazione adulterio con lei. Ma non solo. Gesù, se non si ravvedevano, ha promesso anche di mettere a morte i suoi figlioli. Sì, a morte i figli. Ma questo ci fa capire, vedete, come c'è una responsabilità dei genitori che può ricadere sui figli, quindi c'è anche un giudizio sui figli. Vedete? Quindi non sta... qui Gesù non ha detto niente di strano perché non sta facendo altro che ricordare che il secondo comandamento è ancora oggi applicato, non cambia niente. Non cambia niente, non è cessato l'adempimento del secondo comandamento. Quello continua a valere ancora oggi, per intero. Tutto per intero. E quindi come avviene? Ecco quindi, vedete, non solo per il peccato di Adamo, ma voi abbiamo visto il peccato nel concepimento e il peccato nel comportamento anche dei genitori che può ricadere sui figli, sui fanciulli, sui bambini. Quindi tutto questo, perché ve lo sto citando? Ve lo sto citando per farvi capire che il bambino, secondo le scritture, secondo le scritture, non lo possiamo considerare. Sì, sappiamo che non ha coscienza di peccato, nel senso che fino a un certo momento non ha coscienza di peccato, cioè non pecca lui direttamente, ma ha comunque del peccato che gli può essere addossato dai genitori, a partire proprio da Adamo, capite? Cioè il peccato di Adamo, infatti, infatti, se un bambino, allora, vi dico questo, se i bambini fossero esenti da peccato non avrebbero potuto morire o ammalarsi, capite? Perché il peccato e la morte sono la conseguenza del peccato. Quindi se c'è la morte e c'è il peccato, scusate, se c'è la morte e c'è la malattia, se c'è malattia e morte, vuol dire che c'è anche il peccato, cioè è impossibile perché non c'è malattia e non c'è morte se lì non c'è peccato. Ma siccome Dio chiama e toglie la vita anche ai fanciulli di qualsiasi età sia, vuol dire che anche loro hanno una certa responsabilità. È chiaro che io non sono in grado di dire chi, quali sono, quanti sono, non si può dire. Qui stiamo facendo un discorso generale, stiamo facendo un discorso generale che dobbiamo trovare un ragionamento, stiamo cercando di una conclusione, un ragionamento generale che ci faccia capire, ci faccia stare tranquilli, perché di questo abbiamo bisogno. Ci faccia stare tranquilli sul fatto che i bambini sono salvati o no? Non ci dobbiamo agitare noi, perché questa prerogativa di salvare i bambini ce l'ha sempre il Dio, come ce l'ha anche per gli adulti. Non ci dobbiamo agitare, litigare tra di noi se quel bambino è salvato oppure no. Noi non possiamo litigare neanche per un adulto, non solo non possiamo litigare per i fanciulli o discuterci tra di noi o avere uno imporsi sull'altro, non lo possiamo fare né per gli adulti e neanche per i bambini, perché il Dio salva quelli che lui vuole salvare. Il principio stabilito è sempre il medesimo, è sempre quello che il Dio salva quelli che lui vuole salvare. E non ci sono possibilità, non ci sono altri elementi a questo. Il Dio salva secondo la sua misericordia. Tutti, attenzione, questo principio il Dio lo utilizza con tutti. Quindi vedete com'è giusto, altrimenti ci sarebbe una salvezza, quello è salvato per opere, quell'altro è salvato perché non ha mai peccato e quell'altro è salvato perché Dio gli ha voluto perdonare i peccati. Capite? Non ci sono queste differenze, non ci possono essere. Quindi ecco perché ci tengo a dire queste cose, a farvele capire, a farvi riflettere maggiormente, perché è un punto cruciale e fondamentale. Non è che stiamo parlando di una cosa secondaria qui, stiamo parlando della salvezza secondo la misericordia di Dio. E questo è il punto fondamentale che se non si accetta questo, praticamente si toglie la gloria a Dio, ci stiamo salvando da noi stessi, stiamo dicendo che quello è salvato perché è senza peccato, quell'altro è salvato quando non è così. Assolutamente non è così. Il Dio salva quelli che vuole lui. Questa è la regola principale, che è un punto cardine che è valido su tutti i punti, su tutte le dottrine. Cioè qualsiasi deduzione, qualsiasi ragionamento, qualsiasi studio sulle scritture possiamo fare? Non possiamo mai intaccare questo principio, cioè che Dio salva quelli che lui vuole salvare. Quindi questo è un principio cardine che non può essere toccato mai. Io posso prendere altre dottrine, ragionare, ma questo non può essere toccato, come ce ne sono anche altri di punti che non possono essere toccati. Quindi ecco perché ci tenevo, perché dire diversamente da questo, fare dei ragionamenti che annullano questo, praticamente si sta accadendo nell'eresia, si sta facendo danno, capite? Si sta cominciando a dire che uno è salvato perché è bravo, uno è salvato perché è puro, uno è salvato perché... ma senza considerare l'età, che uno può cominciare a dire, vabbè ma chi te l'ha detto te che quell'uomo ha peccato? Quello è vissuto sempre da solo, in una montagna, non ha conosciuto mai niente, nessuno è naufragato in un'isola da bambino, è vissuto lì da adulto. Capite, se noi togliamo la misericordia di Dio per quanto riguarda la salvezza, poi ci può entrare qualsiasi tipo di ragionamento, capite? E tutti i ragionamenti umani potrebbero sembrare giusti, logici, ma noi non guardiamo alla logica, non guardiamo alla giustizia secondo il ragionamento umano, noi guardiamo alla giustizia di Dio, la giustizia di Dio è quella che riguarda la salvezza, cioè il Dio salva quelli che lui vuole salvare, secondo la sua grazia, secondo la sua misericordia. Infatti il Dio è giusto, no? Noi diciamo che Dio è buono, noi diciamo anche che Dio è giusto. Bene, allora Dio è buono e Dio è giusto, e guardate cosa in una preghiera, lo ricorda questo, Salomone, Salomone nella sua preghiera, quindi dobbiamo andare nel libro del re, primo libro del re, al capitolo 8, al capitolo 8, qui c'è per la dedicazione, per la consacrazione del tempio, il popolo si è riunito e Salomone fa una preghiera, una preghiera che è rimasta nelle scritture, ispirata da Dio, dallo Spirito Santo, guardate cosa riconosce in questa preghiera Salomone, nella sua sapienza. Capitolo 8, di prima re al versetto, leggiamo dal 31. Se uno pecca contro il suo prossimo e si esige da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se quegli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo, agisci e giudica i tuoi servi. Condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente, trattandolo secondo la sua giustizia. Vedete, cosa si capisce da questo passaggio? Salomone invocava la giustizia di Dio in questa preghiera, cioè quando ci sarebbero stati dei casi su cui Dio avrebbe giudicato, Salomone invoca appunto la giustizia di Dio, cioè il Dio tu, il colpevole puniscilo, ma l'innocente tu, non giudicarlo, non condannarlo. Va bene? L'innocente. Perché è importante o sto introducendo questo discorso? Perché qualcuno potrebbe dire sì, ma un neonato è innocente di tutto. E quindi però dicendo questo, dicendo questo, allora dobbiamo considerare, va bene, ammettiamo che il neonato è innocente, io dico bambino genericamente, poi l'età mettetela voi, mi sto riferendo a bambini incoscienti che non hanno coscienza di peccato, uso la parola bambino. Mettiamo che questo bambino, mettiamo che sia così, che il bambino non ha coscienza di peccato e quindi è innocente. Possiamo dire che è innocente, cioè non è contaminato dal peccato. Allora leggiamo, allora ricordiamoci questo. Andiamo in Genesi, capitolo 18, al capitolo 18 avviene la distruzione di Sodoma e di Gomorra. Guardate bene che la distruzione di Sodoma e di Gomorra è avvenuta in maniera totale e assoluta. In quella distruzione c'è Abramo che intercede per i giusti di Sodoma, va bene? E da quella città uscirono Lot, sua moglie e le sue due figlie, va bene? Qui mentre guardate il discorso che fanno Abramo con l'Eterno, va bene? Cioè Abramo intercede per l'Eterno, cioè presso l'Eterno per salvare i giusti di Sodoma e di Gomorra. Allora, 18-23 di Genesi e Abramo si accostò e disse, farai tu perire il giusto insieme con l'Empio? Questo lo disse Abramo perché sapeva che l'Eterno era giusto, cioè il Dio non fa perire l'Empio e il giusto insieme, capite? Quando manda i suoi giudizi. Infatti io vi ricordo, vi ricordo che anche per quanto riguarda i primogeniti, stiamo parlando di bambini neonati anche lì, c'erano un po' più grandi i neonati, bambini comunque, bambini primogeniti dell'Egitto morirono tutti i primogeniti degli egiziani, ma non morirono i primogeniti degli israeliti, vedete? Perché Dio non considerava il giusto come l'Empio, il Dio non considera il colpevole alla stessa stregua dell'innocente, il Dio ha stabilito in quella maniera. Allora dovremmo domandarci noi, ma che colpa ne avevano i primogeniti degli egiziani? Che colpa ne avevano se il faraone induriva il suo cuore non li faceva uscire, che non faceva uscire il popolo di Israele? Che colpa ne avevano quei poveri fanciulli? Come ne vedremo anche altri di altre città. Allora, se noi facciamo il ragionamento che tutti i fanciulli sono puri, quindi vanno in paradiso, dobbiamo anche accettare il fatto che tutti quei bambini che morirono in Sodoma, in Sodoma e in Gomorra e non solo in quella città, ma anche nel diluvio, vi ricordo anche nel diluvio, e anche in tutte quelle che poi andiamo a leggerlo, anche in quelle città che vennero distrutte quando Israele entrava in Canaan, tutte quelle città furono distrutti uomini, donne e bambini, di qualsiasi, non rimase nessuna anima in vita. Allora, se noi diciamo che i bambini, quindi riguarda tutte le età, se noi dobbiamo per ipotesi dire che tutti i bambini sono innocenti, quindi sono salvati, allora dobbiamo anche accettare che Dio non è giusto, che Dio ha fatto uccidere dei bambini che erano innocenti. Ma noi abbiamo appena visto che sia Salomone che anche Abramo sapeva che Dio, sapevano che l'Eterno non giudicava l'Empio alla stessa stregua dell'innocente, no, no, il colpevole non lo tiene per innocente, l'innocente non viene tenuto per colpevole davanti a Dio. Infatti, guardate, leggiamo anche in Deuteronomio, quindi abbiamo citato adesso, poi dopo venne la distruzione di Sodoma e di Gomorra, e nessun'anima rimase in vita, nessun uomo, nessun essere vivente rimase in vita in quelle città, quindi morirono tutti, adulti e bambini, tutti, non c'è scritto specificamente, ma se morirono tutti nelle città, volete che voi non ci siano dei bambini? Cioè non c'è neanche un bambino? Quando anche fosse uno solo, anche quello sarebbe morto, diciamo, ingiustamente, no? Sarebbe una macchia contro la giustizia di Dio, se noi riteniamo i bambini innocenti, ecco, ma capite perché, capite perché sbagliano, sbagliano quelli che dicono quando scende una sciagura sulla terra in una città, un terremoto, un alluvione, muoiono adulti, muoiono anche bambini, ancora oggi, eh? E molti dicono, ah ma che colpa ne avevano i bambini? E se la prendono contro Dio? Se noi facciamo questi ragionamenti, se noi ci mettiamo a fare i ragionamenti che i bambini sono innocenti, ci mettiamo nello stesso tavolo di questi, nella stessa cattedra di questi giudicatori di Dio e puntiamo il dito verso Dio, come se Dio avesse fatto una cosa sbagliata, capite? Io non comprendo, io non comprendo perché Dio faccia vivere alcuni, faccia morire altri, questo non lo comprendo, non lo so, però una cosa so, che Dio è giusto e fa quello che gli piace, che Dio è santo e non punisce l'innocente e non lo ritiene per colpevole, così come non libera il colpevole e lo ritiene per innocente. Il Dio sa quello che sta facendo, ecco quindi il nostro comportamento, il nostro parlare, il nostro cuore deve essere tranquillo, si deve rimettere nelle mani di Dio, non ci dobbiamo fare complicazioni che non ci sono, noi non salviamo nessuno, non possiamo aiutare nessuno, è solo il Dio che può salvare, liberare, quindi dobbiamo solo rimetterci nelle mani del Dio vivente e vero perché lui vi salva, quando lui fa vivere e lui fa morire, è giusto, egli è giusto, attenzione a non cadere nel giudizio, nel giudicare il Dio, perché noi siamo carne e polvere, noi non siamo niente, non dobbiamo giudicare il Dio, egli sa quello che sta facendo, che deve rendere conto a noi, siamo noi i più buoni di Dio a dire ah ma noi vogliamo che i bambini, tutti i bambini vivano, tutti i bambini siano salvati, tutti i bambini, io non lo so se tutti i bambini sono salvati o tutti i bambini sono perduti, non lo so questo, non lo possiamo sapere, io so solo che un principio viene applicato sempre in qualsiasi momento che è quello che Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole, quindi Dio salva chi vuole lui, questo principio se noi ci atteniamo a questo siamo anche più tranquilli, siamo tutti più tranquilli, non ci mettiamo al posto di Dio in nessuna maniera e quando diamo delle risposte tranquillizziamo anche gli altri, se invece cominciamo a dire ci aprono un sacco di problematiche, se non si mantiene nei concetti generali della somma della parola di Dio si aprono un sacco di obiezioni che non si arriverà mai a nulla, capite? Non si arriverà mai a nulla, si aprono solo discussioni ed è meglio sempre sedare e soprattutto non solo discussioni ma anche discussioni che portano a che cosa? A parlare contro Dio, capite? Perché allora cominciamo a dire ma no perché Dio ha fatto scendere un'alluvione ha ucciso tutti quei bambini? Che colpa ne avevano? Se non hanno colpa perché li ha fatti morire? Cioè allora ci mettiamo, se noi cominciamo a fare ragionamenti strani che escono dalle sacche scritture, dai ragionamenti generali che troviamo nella parola ecco quindi vedete che ci mettiamo a giudicare Dio, noi non dobbiamo giudicare Dio, non dobbiamo giudicare il suo operato, lui sa quello che sta facendo, semmai sono io che non so quello che faccio tante volte, questo è vero, noi uomini non sappiamo quello che facciamo, che facciamo tante stupidaggini a volte, abbiamo tanti comportamenti folli, insensati, stolti, noi uomini però, ma Dio non ha mai fallito una volta, non ha mai sbagliato, questo è il nostro Dio, questo è lì Dio che noi invochiamo, questo è lì Dio che regna, lì Dio sovrano, fa del suo creato quello che vuole, se lui vuole salvare, salva, se vuole far perire, far perire, se lui vuole far vivere, far vivere, quello che lui vuole fare, lui lo fa, egli è Dio, non deve rendere conto a nessuno, io devo rendere conto di quello che faccio, ma lui a me non mi deve rendere conto di nulla, non sono i miei ragionamenti, i miei pensieri che possono influenzare l'operato di Dio, io posso solo adeguarmi a quello che Dio fa, infatti i suoi pensieri sono molto al di sopra dei nostri, vi ricordate che c'è anche questo passaggio biblico, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, egli è Dio, non è mortale, il Dio non mangia l'erba, capite? Per sopravvivere il Dio non mangia l'erba, noi siamo esseri che per vivere dobbiamo mangiare l'erba, ma vi rendete conto che differenza che c'è tra noi? noi alla fine sul mantenerci in vita, questo per farvi capire che sapienza possiamo mai, che differenza c'è tra noi e Dio? Il Dio riempie i cieli e la terra, la sua pazzia è superiore alla sapienza di tutti gli uomini messi insieme, solo la pazzia di Dio, ma noi sappiamo che Dio non è pazzo, non ha pazzia a Dio, però stiamo facendo un esempio, come l'ha fatto Paolo, quindi la sapienza di Dio è talmente superiore alla nostra che noi non ci possiamo neanche avvicinare a capirla, il Dio nelle scritture ci ha lasciato scritto quel minimo che noi potremmo forse anche capire, ma molte cose già non le comprendiamo, va bene? Infatti Gesù gli disse a Nicodemo e voi non comprendete le cose di questa terra, come comprenderete se io vi parlerò delle cose celesti, ma questo per farvi capire, per farci capire che ci sono molte cose che dobbiamo sapere ancora, che noi non riusciamo a intendere, cioè siamo così piccoli e così la nostra mente, il nostro cuore è così piccolo, non riesce a contenere la gloria dell'iddio vivente e vero, non riesce a contenere la sapienza dell'iddio potente e glorioso che noi invochiamo. Quindi questo lo sto dicendo affinché voi vi tranquillizziate quando sentite che uno è vissuto, l'altro è morto, e Dio fa quello che vuole, a Dio sia tutta la gloria, capite? Perché egli fa quello che vuole, egli non sbaglia, egli è Dio, quindi non dobbiamo in alcuna maniera ritenere che il Signore qualsiasi cosa faccia sbagli. Leggiamo adesso a conferma di quello che stiamo dicendo, in Deuteronomio, le parole di Mosè, capitolo 2, Deuteronomio 2, qui praticamente Mosè nel libro di Deuteronomio viene chiamato anche il libro della ripetizione della legge. Quando Israele arrivò davanti a Canaan, quando arrivò là, prima di entrare, prima di andare avanti, in un certo punto Mosè scrisse questo libro come ripetizione un po', come ricordare quello che avvenne e quello che avevano fatto fino a quel momento. Tra le cose che erano state fatte, guardate Mosè cosa dice, quindi capitolo 2, abbiamo letto, versetto 34, dal 31, e l'Eterno mi disse, vedi, ho principiato a dare in tuo potere Sion e il suo paese, comincia la conquista impadronendoti del suo paese, allora Sion uscì contro noi con tutta la sua gente per darci battaglia a Iaz e l'Eterno l'Idio nostro ce lo die nelle mani e noi ponemmo in rotta lui, i suoi figlioli e tutta la sua gente. E in quel tempo prendemmo tutte le sue città e votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini, non vi lasciamo anima viva, vedete? Non solo il Dio aveva distrutto Sodoma e Gomorra, uomini, donne e bambini, aveva anche durante il diluvio, no? Vi sapete il diluvio, il Dio distrusse tutto, tutti morirono, uomini, donne e bambini. Qui dice che Israele sarebbe entrato a distruggere certi re che erano in Canaan e distrussero uomini, donne e bambini, li uccisero, non rimase anima in vita, in vita nel senso l'anima è immortale, qui vuol dire non rimase persona viva, vuole intendere in questo senso. Quindi vedete, se noi considerassimo che i bambini sono puri, lo dovremmo considerare per tutte le generazioni e per tutte le nazioni. Non è che il bambino sarebbe puro, solo il bambino cristiano, perché il bambino cristiano neonato o nel seno materno è esattamente uguale al bambino di natura, è esattamente uguale di natura a un bambino musulmano, a un bambino diciamo buddista o di altre religioni, capite? Cioè dal punto di vista proprio fisico, fisiologico, i bambini sono tutti uguali, appena nascono non è che se li dobbiamo considerare senza peccato anche i bambini cananei, quelli di Sodoma e di Gomorra, quelli anche durante il diluvio, anche quelli dell'Egitto, i primogeniti di Egitto, anche quelli dovevamo considerare innocenti. Ma non li considerò così il Dio. Allora, noi che vogliamo fare dei bambini innocenti stiamo giudicando il Dio, capite? Quindi bisogna stare attenti. Ecco perché la cosa non va bene, non va fatta così, non va neanche accennata, neanche ragionata in questa maniera. Perché si può creare confusione a se stessi, perché ci si può creare una, riflettendo in maniera sbagliata, ci si può creare da soli una fortezza sbagliata, errata nella nostra mente, difficile dopo da togliere. E con questa fortezza noi andiamo, con questa menzogna noi possiamo contaminare anche altri. Capite? Quindi bisogna stare attenti, bisogna sempre considerare e poi confrontarsi anche con gli altri fratelli. Cioè non è che adesso siamo qui col fucile puntato. Se uno dice, no? Uno, anche quelli preposti all'insegnamento o altri fratelli, se uno dice, ma no, secondo me è così. Gli altri stiano attenti. Se è stato detto così o sta sbagliando o se no bisogna adeguarsi. È inutile insistere su altre cose, capite? Cioè non è che c'ho ragione, perché dopo può scattare l'orgoglio personale. Cioè c'ho ragione io e tu stai sbagliando. Va bene, ma tu non mi hai dimostrato che hai ragione, quindi non va bene, può non andare bene in quella maniera. Allora facciamo così, cioè bisogna stare attenti. Cioè quello che noi diciamo, dobbiamo stare attenti. Quello che dico io, non è che ieri l'ho pensato e oggi ve lo dico. Io da quando mi sono convertito, tutte queste argomentazioni me le sono domandate e ho cercato la risposta nelle scritture. Negli anni ho sempre cercato le stesse risposte nella scrittura. Anche se avevo già trovato, se io avessi trovato dei passi che annullavano la mia risposta, io l'avrei modificato. Quindi, ma non solo io, anche altri fratelli. Quindi voglio dire, se in più fratelli che studiamo le scritture, non da ieri, ma, io parlo per me, dal 1991, ma anche altri fratelli, anche da più anni di me, giungono a determinate conclusioni, significa che qualcosa c'è. Io non dico che abbiamo ragione in tutto, però stiamo attenti. Se viene detta una cosa, consideratela, tenetela da conto. Io se mi dicono una cosa, qualcuno che è un ministro di Dio, io lo considero, la tengo da conto. Prima di contraddirlo, devo veramente stare attento e essere sicuro. Devo trovare il doppio dei passi, non quelli che avevo già trovato, ma il doppio, oppure passi incontrovertibili che dimostrano che ho ragione io e non l'altro. Perché se no, una volta che ti viene dimostrata la verità, dopo tu cadi in contraddizione e ti stai mettendo contro Dio. Perché se Dio ti ha mandato la risposta, no? Perché se la risposta te l'ha mandato attraverso la parola e tu non l'accetti, non è che ti stai opponendo a me, ti stai opponendo a Dio, che è un'altra cosa, capite? E perché questo? Perché vuoi ottenere un risultato secondo la tua mente, che non combacia da nessuna parte. Vedete, si fa Dio ingiusto, facendo in modo che i bambini per forza li vuoi salvare. Si conclude, vorrei concludere rileggendo questo passaggio. Quindi la conclusione di tutto questo. Abbiamo visto che i bambini possono avere, hanno, cioè discende su di loro il peccato dei genitori, da Adamo e anche dai genitori. Abbiamo visto i giudizi di Dio che sono scesi sopra sia gli adulti che anche i neonati. Quindi sono stati trattati tutti alla stessa stregua, vuol dire, sappiamo bene che Dio non tratta il colpevole per innocente o l'innocente per colpevole. Altrimenti se trattava l'innocente, il bambino innocente come colpevole, il Dio sarebbe ingiusto. Quindi non possiamo arrivare a quella conclusione. Di conseguenza dobbiamo dire che Dio è giusto. Quindi quando fa morire i fanciulli, li fa morire perché lui ha un motivo ben preciso. Così vuole fare e così fa. Che gli ha preparato i vasi, anche i vasi a perdizione. Vi ricordate quel passo ai Romani 9, 9, 22? E che vi è mai da replicare? Se Dio, vedete come parla Paolo, che vi è mai da replicare? Perché sapeva bene che a certi concetti, certi ragionamenti, sarebbero venuti molti oppositori. Molti si sarebbero opposti al suo ragionamento, a Dio, si sarebbero opposti alla volontà di Dio. Infatti Paolo lo fa notare. Che va mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Il Dio ha preparato dei vasi per la perdizione perché prima della fondazione del mondo ha scritto il libro della vita. In quel libro della vita ci sono quelli che sarebbero stati salvati. Quindi quelli che non sono stati salvati ma erano comunque programmati da Dio che dovevano nascere, sono i cosiddetti chiamati vasi d'ira preparati per la perdizione. E tra questi che esclude, che può escludere che ci siano anche i fanciulli, bambini, piccoli, grandi, un po' più grandi, come Dio ha voluto fare. E Dio fa come lui vuole fare. Io non lo posso dire con certezza assoluta come non si può escludere. E Dio ha fatto sempre quello che ha voluto lui. Però è chiaro che ho visto come Dio ha punito anche i fanciulli nella sua ira, guarda il diluvio, guarda Sodoma e Gomorra, guarda le città di Canaan conquistate, guarda i primogeniti di Egitto, vedete? Vasi d'ira preparati per che cosa? Già da piccoli, preparati per che cosa? Per la perdizione. Quindi, quindi, chi può dire che i fanciulli sono tutti salvati o i fanciulli sono tutti, vanno tutti in perdizione perché non hanno creduto, no? Perché sarebbe questo. Da una parte possiamo dire solo quelli che hanno creduto possono essere salvati e lì c'è una problematica. Dall'altra c'è sì, ma non hanno peccato mai e quindi devono essere salvati per forza. Io non la metterei su questo, io considererei questo passaggio biblico che racchiude tutta la volontà di Dio. Quindi Romani 9 al versetto 16. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Vedete, la salvezza da chi dipende? Che siano grandi, piccoli, neonati o ancora nel seno materno. Da chi dipende la salvezza? La salvezza dipende esclusivamente da Dio. Quindi a lui dipende la salvezza, io non mi creo il problema del fanciullo dove è andato. Non bisogna crearselo. Quelli che se lo creano è perché vogliono creare discussioni, no? Ci sono quelli che vengono, ti attaccano, ah ma tu sei ingiusto di qua, ma non stanno giudicando te, stanno giudicando il Dio, capite? Perché allora dovremmo dire, allora il Dio è stato ingiusto, ha distrutto il diluvio, col diluvio ha distrutto tutte quelle persone e c'erano anche i bambini. Ma perché? I primogeniti di Egitto? Allora dobbiamo giudicare Dio anche per i primogeniti di Egitto. Non poteva uccidere Faraone e tutti i suoi servitori. Perché uccidere i primogeniti? Cosa c'entravano i bambini piccoli? Capite? Ma se facciamo ragionamenti umani, se noi ci mettiamo a fare ragionamenti secondo la nostra bontà, la nostra misericordia, ma noi usciamo fuori di strada, noi non dobbiamo ragionare con la nostra mente, è così. Noi dobbiamo ragionare con la mente di Cristo, che è un'altra cosa. Dobbiamo ragionare con la parola di Gli. Non è che dobbiamo perdere il nostro spirito critico, di analisi. No, non sto dicendo questo. Ma il ragionamento che dobbiamo fare lo dobbiamo fare alla luce della parola, della somma della parola. Non leggere le scritture, dobbiamo stare attenti a non fare l'errore come fanno tanti altri purtroppo, di leggere le scritture cercando quello che ci interessa. Noi non dobbiamo cercare quello che ci interessa, noi dobbiamo cercare la verità, che è un'altra cosa. Anche quando i passaggi biblici non mi piacciono, sono quelli. Io preferirei salvarli tutti i bambini. Vedete, io sto ragionando con la mia testa adesso, no? Io li salverei tutti i bambini, va bene? Pregherei Dio, Dio, Signore, io li salverei tutti i bambini. Che colpa hanno? Non hanno nessuna colpa. Ma chi sono io? E Dio fa quello invece che vuole lui, non quello che voglio io. Secondo la mente di Cristo, secondo la parola di Dio, io invece devo ragionare in un'altra maniera, come ho ragionato oggi. Ho dovuto esaminare se le scritture mi dicono che il bambino può essere veramente senza alcun peccato, se c'è una possibilità che sia salvato perché non ha peccato e se invece le cose non stanno così, come stanno? Io comunque sono ottimista, nel senso che voglio comunque rimettermi nelle mani di Dio è accettare questo passaggio che Dio fa misericordia a chi vuole e quindi anche per quanto riguarda i bambini. Anche per quanto riguarda i bambini il Dio fa misericordia a chi vuole. E vi ricordo, finiamo con il capitolo 20 di Apocalisse, guardate tutti quelli che furono giudicati, quindi Apocalisse 20, Apocalisse 20, 15, dice E se qualcuno non fu trovato nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Vedete? Qui non si tratta né di piccoli, né di grandi, né di niente, né il Vecchio Testamento, né il Nuovo Testamento, né che uno era gentile, né che uno era ebreo. Quelli che vanno in perdizione vale una regola soltanto, che è questa. Quelli che non furono trovati nel libro della vita furono gettati nello stagno di fuoco. Quindi io come ragiono? I bambini che muoiono, se non sono scritti nel libro della vita, sono perduti. Se sono scritti nel libro della vita, sono salvati. Questo è il ragionamento fondamentale, è come la stessa cosa del passo che abbiamo letto prima ai Romani, cioè che Dio fa misericordia a chi vuole lui, a chi ha deciso di fare misericordia. Quindi su questo argomento così sono le cose. Avremmo potuto citare tanti altri passaggi, fare tanti altri ragionamenti, ma la conclusione non si può uscire da questo. Non si può comunque uscire da questo, che Dio fa misericordia a chi vuole lui. E con questo termino il messaggio che ho voluto darvi questa sera. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.